Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti a questa mattinata e a questo pomeriggio, a questa giornata dedicata alla conservazione e alla valorizzazione dei fondi librari antichi negli Atenei, dei fondi librari speciali antichi negli Atenei, conservare per valorizzare nelle biblioteche di Ateneo. Diamo subito la parola alla professoressa Alessandra Fiocca, prorettrice dell'Università degli Studi di Ferrara, alle biblioteche che darà i suoi saluti istituzionali. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa giornata di studio dedicata appunto alla valorizzazione e alla conservazione dei beni delle biblioteche universitarie. Mi piace ringraziare gli organizzatori per questa importante iniziativa che vede tanti partecipanti sia in presenza sia collegati online, quindi ha avuto successo l'iniziativa e quindi io do il mio buon lavoro a tutti. Ecco, mi piace ricordare che questa non è la prima iniziativa, diciamo che da diversi anni a Ferrara le biblioteche universitarie si stanno muovendo in questa direzione e i lavori sono iniziati col mio predecessore, il professore Michele Pifferi, prorettore appunto alle biblioteche prima di me. Nel sito proprio del sistema bibliotecario di Ateneo alla voce attività culturale se ne trovano elencati numerosi altri a partire dal 2016 e a oggi, quindi quella fino ad oggi. Quella di questa giornata è solo l'ultima voce di questo elenco. Ecco, allora mi piace ricordare in questa sede il precedente convegno organizzato dallo SBA, appunto il sistema bibliotecario di Ateneo in collaborazione col Centro Ricerche Inquinamento Fisico-Chimico-Microbiologico Ambienti Alta Sterilità l'acronimo ICIAS, realizzato in occasione del Salone Internazionale del Restauro che si è svolto a Ferrara in settembre del 2019. La giornata di studio ha visto la partecipazione di numerosi relatori di professionalità diverse che si sono confrontati sul tema della diagnostica, della tutela, del restauro e della conservazione del patrimonio librario. In tale occasione è stato presentato il documentario Tra antiche carte e pergamene, un percorso di restauro e gli atti del convegno sono stati raccolti in un e-book curato da Marina Contarini e Maria Grazia Mondini. Nel 2021 è uscito. Appare evidente da questo materiale la complessità e la ricchezza di competenze necessarie per svolgere questa attività di promozione e di valorizzazione. Mi piace ricordare anche un altro progetto, Storie di Libri e Palazzi, ed è stato inaugurato nel 2018, nato dal desiderio di valorizzare le biblioteche complessivamente dell'Università di Ferrara, quindi non solo il patrimonio librario ma anche gli edifici di interesse storico-architettonico in cui hanno sede e le collezioni naturalmente librarie antiche di pregio che sono conservate. E questo è stato realizzato attraverso un itinerario turistico-culturale per un ampio pubblico, quindi non solo accademico, che ha ricevuto dall'Associazione Italiana Biblioteca un premio, il premio di Maria Abbenante nel 2021. È arrivato secondo classificato a pari merito con altri due progetti. È inteso questo progetto valorizzare il ruolo sociale e culturale delle biblioteche e la loro dimensione inclusiva. Ecco questo secondo aspetto, mi piace sottolineare. Sono stati realizzati dei totemi informativi collocati nelle sedi che illustrano in forma sintetica la storia dei palazzi e delle biblioteche e le peculiarità delle prezose collezioni librarie dell'Ateneo. Una app consente di accedere tramite dispositivi mobili a una selezione di testi, immagini, video. Poi c'è un video realizzato col centro SEA di Unife e un volume fresco di stampa a cura di Cristina Baldi e Paola Iannucci. Quindi un ringraziamento a tutto il personale che continua a mantenere vive e attive le biblioteche. Ringrazio i relatori di oggi e auguro a tutti buon lavoro. Grazie molte professoressa. Se la professoressa Fiocca rappresenta chi ha promosso come istituzione pubblica la giornata di oggi, Associazione Italiana Biblioteche ed Aicrab sono altre due associazioni promotrici. I saluti iniziali vengono quindi portati da Roberta Turricchia, presidente della sezione Emilia Romagna, dell'Aib. I saluti del presidente Aicrab seguiranno perché come sapete Melania Zanetti che interverrà e porterà quindi i saluti di alto. Grazie mille a tutti, benvenuti. Sono stati quasi 100, più di 100 le iscrizioni che l'Università di Ferrara ha raccolto, fra appunto presenti alla giornata in presenza e a distanza, provenienti da diverse aree geografiche e appartenenti a diverse professioni dei beni culturali. Oggi ci sono bibliotecari, archivisti, restauratori ma anche laureandi, studenti, professori dell'Università. Insomma, sono stati chiamati a raccolta diversi professionisti e evidentemente c'era bisogno di una giornata come questa e questi temi non sono affatto scontati. Oltre naturalmente al pubblico voglio ringraziare prima di tutto il sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università di Ferrara che ha avuto quest'idea raccolta subito con entusiasmo dall'Associazione Italiana Biblioteche e dall'Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e Biblioteche rappresentata oggi appunto da Melania Zanetti. Ma naturalmente tutti i contributi, i vari relatori sono partner di questa iniziativa, di questa impresa e credo che proprio grazie alla analogia e alla differenza dei nostri mestieri, alle nostre competenze potremo mettere a frutto questa collaborazione che mi auguro prosegua nel tempo insomma. E vorrei poi ringraziare i relatori anche uno per uno o se lo farà Paolo. Paolo Tinti è il vicepresidente della sezione AIB Emilia Romagna nonché docente di bibliografia e storia del libro e biblioteconomia all'Università di Bologna, ma insomma oggi io qui lo voglio ricordare per il suo ruolo attivissimo nell'ambito dell'Associazione Italiana Biblioteche. L'argomento del seminario di oggi, conservare per valorizzare, introduce già due concetti, due funzioni, condensa già due delle quattro funzioni che il nostro codice legislativo, il codice dei beni culturali e del paesaggio subito nei primi articoli, quindi nei principi generali laddove esplicita le finalità del codice e enuncia, affidandone poi naturalmente i compiti ai soggetti pubblici e anche privati deputati, le funzioni di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione e affidandone gli interventi ai professionisti dei beni culturali dotati di adeguata professionalità e requisiti professionali e di aggiornamento di formazione continua su cui l'AIB non smette mai di insistere ed anzi ogni cinque anni anche gli associati devono rispondere al mantenimento di determinati requisiti per continuare ad essere mantenuti nell'elenco degli associati. Questi temi saranno declinati rispetto ai fondi posseduti dalle biblioteche di Ateneo o che potranno arrivare fondi storici speciali che vanno valorizzati, immagino pur nella complessità della gestione delle operazioni, della difficoltà di avere personale strutturato o qualificato per queste attività o difficoltà anche a reclutarlo, costi, spazi. Sì, ma naturalmente la fruizione di questo materiale da parte di tutti e la conoscenza di questo materiale non solo da parte degli addetti ai lavori è di fatto un'attività di public engagement di inserirsi nel solco di quella che è poi la terza missione dell'università in maniera tale che sia, come dire, i beni, il patrimonio culturale dell'università sia fruibile, sia conosciuto, ma anche gli esiti della ricerca e della didattica possono avere una ricaduta nei nostri territori. Ringrazio in particolare Marina Contarini e Anna Bernabè e tutto lo staff, il personale che immagino si sia adoperato per organizzare questa giornata e i relatori a cominciare appunto da Paolo Tinti, vicepresidente AIB Emilia Romagna Melania Zanetti dell'università CA Foscari e presidente dell'associazione AICRAB Cristiana Resti della sovrintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna Claudio Leombroni, dirigente area biblioteche e archivi del settore patrimonio culturale della regione Emilia Romagna Monica Fiore, tra le sue varie qualifiche, la ricordo se non altro come attuale presidente della sezione AIB Emilia Romagna associata AICRAB Umbria Emilia Romagna, vedi, vedi no, sono pro tempore, quindi le nostre sto per scadere anch'io e poi nel pomeriggio si passerà ai casi di studi ringrazio quindi Valentina Zanchin, Luigi Arrigo e Marina Contarini che forse oggi non riuscirà ad essere con noi e Anna Bernabè grazie a tutti e buon lavoro bene, grazie a Roberta Turricchia non aggiungo altri, non ripeto altri ringraziamenti ma mi limito ad associarmi a quelli che sono già stati ricordati e vi aggiungo lo spazio che ci ospita appunto il ringraziamento al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara che ci ha offerto questo spazio molto bello e piacevole poche parole introduttive perché come ho già redarguito anche i relatori non abbiamo tempi molto contingentati la giornata è intensa poche parole introduttive a invece la prima fase della mattinata che vedrà una immagine più metodologica più riflessiva su il tema della conservazione e della valorizzazione per lasciare poi il posto anticipato dall'intervento di Monica Fiore come ricordato da Roberta Turricchia nel pomeriggio ad un workshop più come dire operativo dove le bibliotecari e i bibliotecari presenti i conservatori, le conservatrici presenti potranno un po' non dico sporcarsi le mani ma mettere, attuare un confronto con oltre che il sapere, il saper fare così centrale nella università, nella formazione, nella professione contemporanea devo partire dalla genesi di questo incontro che è avvenuta nella primavera di quest'anno quando è uscito l'ebook contenente gli atti della giornata del 2019 immaginava la possibilità di presentare questo libro, questo ebook e eventualmente anche di mostrarlo in versione cartacea ciascuno di voi dovrebbe aver ricevuto una copia appunto di questo testo pubblicato già in ebook l'idea che Marina Contarini e Anna Bernabè hanno avuto e hanno presentato al Comitato Esecutivo Regionale dell'Emilia Romagna era, se vogliamo, qualcosa di molto più tradizionale di molto più scontato, possiamo dire cioè presentare un nuovo libro ragionandoci abbiamo voluto mettere in pratica quello che in fondo animava tutti noi cioè la convinzione che ciascun libro sia da un lato il punto di arrivo di un lavoro più o meno serio e questo libro è, come tanti libri su questo tema dell'Università di Ferrara molto serio a mio avviso, anche se non dovrei essere io a dirlo visto che lo introduco ma soprattutto il libro sia qualcosa di vivo, di vitale qualcosa che funga da punto di partenza che indichi alcune direzioni che suggerisca dei percorsi in avanti e non solo, come dire, si croggioli nel lavoro nell'essere il significato di un lavoro compiuto ecco allora che da una più semplice presentazione siamo arrivati all'idea di costruire una giornata formativa una giornata dove davanti a questo libro e in occasione dell'uscita di questo libro ci si trovasse per confrontarsi ulteriormente per discutere dei temi che stanno a cuore a molti rappresentanti che in parte sono nel libro e in parte sono a fianco al libro intorno al libro anzitutto il mondo delle biblioteche d'Ateneo che negli ultimi anni hanno riscoperto i loro patrimoni antichi e li hanno rispolverati li hanno tirati fuori da luoghi dove la conservazione spesso non era esattamente idonea alla loro vita futura hanno rimesso mano a collezioni speciali anche non antiche ma necessarie e bisognose di mediazioni catalografiche, di indicizzazioni di inventariazioni a fianco delle biblioteche sono emersi naturalmente gli archivi le collezioni speciali non solo di docenti gli stessi archivi storici istituzionali delle università che si fondono sempre di più con le biblioteche storiche sono un altro pezzo del patrimonio culturale che gli Atenei italiani stanno prepotentemente rimettendo al centro della loro azione anche grazie alla spinta che la terza missione ha avuto in questi ultimi anni a fianco della ricerca, a fianco della didattica la necessità di comunicare, di diffondere, di divulgare di coinvolgere un più ampio pubblico intorno al mondo degli studi e della didattica universitaria quindi la presentazione di un libro che si è trasformata in quello che vedete sul programma che tutti conoscete che tutti conosciamo dobbiamo spendere una parola appunto sul significato della sede che senz'altro ha a che fare la prorettrice Fiocca lo ha ricordato poco fa con le innumerevoli iniziative che l'Università di Ferrara ha avviato sul fronte della conservazione della valorizzazione del proprio patrimonio culturale bibliografico, archivistico ma permettetemi di dirlo si situa all'interno di una regione che non è stata a guardare in questi ultimi vent'anni ma forte del mandato ricevuto sin dagli anni 70 in merito appunto alla tutela alla valorizzazione dei propri beni librari si è molto spesa vengo dall'Università di Bologna non posso ricordare che nel 2000 si tenne era presente il professor Carlo Federici un memorabile incontro dedicato alla conservazione nelle biblioteche universitarie promosso da una bibliotecaria di grande qualità Maria Pia Torricelli nella biblioteca universitaria di ingegneria Gian Paolo Dore di Bologna e mi fa molto piacere richiamare questo nesso perché l'ingegneria sembra essere un filo conduttore di altre esperienze di valorizzazione mi permetto di avanzare la riflessione che non è quindi soltanto la digitalizzazione la forma di valorizzazione di conservazione a cui molte biblioteche universitarie molti sistemi bibliotecari d'Ateneo non solo nella nostra regione come vedremo hanno guardato come risposta per appunto assicurare la possibilità di una corretta custodia di questo patrimonio di una sua sempre più ampia divulgazione della possibilità per questo patrimonio di superare la nostra generazione di arrivare di essere consegnate nelle mani delle generazioni che verranno dopo di noi un'altra parola chiave che è secondo me significativa per questa giornata è la parola sinergia collaborazione collaborazione che viene dalle istituzioni universitarie passa per il ministero della cultura le amministrazioni statali transita per le amministrazioni locali regionali e non solo arriva al mondo professionale dei bibliotecari dei conservatori una sinergia che gli atenei hanno nel loro dna universitas studiorum significa insieme universale degli studi che tiene insieme rami del sapere apparentemente lontanissimi una visione di reduzione ad unum medievale una versione di universalismo rinascimentale una versione enciclopedica illuministica che oggi si scontra purtroppo fatemelo dire con invece uno specialismo che sta molto stretto alla cultura umanistica una parcellizzazione dei saperi che è insensata davanti ai patrimoni librari e alle collezioni speciali che ci troviamo davanti oggi che tengono insieme discipline diversissime che tengono insieme saperi e visioni delle discipline diversissime e quindi la sinergia è avvenuta anzitutto tra le discipline universitarie la biblioteconomia la teoria e la storia del restauro la ingegneria le scienze applicate la paleografia per citare solo quelle che mi vengono in mente avendo in mano questo volume guardando il programma di oggi insomma una sinergia che ci porta a molte riflessioni ma che ci spinge anche ad una operatività concreta perché di questo le biblioteche hanno bisogno la pandemia ci ha in un qualche modo insegnato quanto la sospensione dell'attività concreta delle biblioteche abbia danneggiato tantissime parti della nostra società abbia danneggiato i giovani e le giovani che studiano all'università ha danneggiato i docenti e le docenti che usano le biblioteche per le loro necessità di ricerca di studio ha danneggiato le bibliotecari e i bibliotecari che si sono trovati improvvisamente isolati e non più parte di quel confronto operativo che è assolutamente un valore indispensabile chiudo perché non voglio rubare tempo all'inizio dei lavori vero e proprio con un'ultima ultimissima parola chiave vedo che tra le icone della locandina della bella locandina della giornata compare l'obiettivo 4 fra gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile un'istruzione di qualità è sicuramente un obiettivo indispensabile per trasformare questa carta dei desideri che è lo sviluppo sostenibile in una realtà concreta introiettata attraverso l'educazione delle giovani generazioni la formazione continua di chi non è più giovane o di chi è diversamente giovane attraverso un percorso di costante aggiornamento professionale questo è il significato della collaborazione tra università e associazioni professionali che la giornata di oggi ha posto a Vessillo chiudo questi pochi spunti riflessivi ringraziando ancora una volta gli organizzatori e i relatori e tutti coloro che hanno cooperato per realizzare la giornata chiamo ringrazio la professoressa Fiocca e la dottoressa Turricchia chiamo al tavolo i relatori grazie a tutti grazie a tutti